Partiranno giovedì alla presenza del sindaco e dell'amministrazione comunale i lavori che trasformeranno l'ormai ex palazzo di città di Capaccio Pestum in una cittadella scolastica. Il polo ospiterà le scuole dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il progetto, oltre all'adeguamento della struttura a tutte quelle che sono le normative in materia di edilizia scolastica, prevede per la scuola d'infanzia la realizzazione anche di un refettorio e di un'area giochi, mentre per le scuole primarie e secondarie di primo grado anche un'aula multimediale e un laboratorio.